termoidraulica susin i migliori impianti di riscaldamento e condizionamento se compri la caldaia ti regalo il condizionatore ben ritrovati al meteo di antenna 3 previsioni per lunedì 19 febbraio sul veneto nuvolosità variabile alternata a schiarite con probabili foschie e nebbie in nelle ore più fredde bassa probabilità di sporadiche precipitazioni temperature in locale calo minime tra 4 e 6 gradi massime sui 13 16 gradi sul friuli venezia giulia cielo in genere variabile e nuvoloso non è esclusa qualche debole precipitazione locale ma con bassa probabilità temperature minime tra 4 e 5 gradi massime sui 12 14 gradi sul trentino alto adige locali piovaschi e nubi al mattino a seguire più stabile e soleggiato temperature minime sui 3 5 gradi massime sui 15 16 gradi dal meteo di antenna 3 è tutto arrivederci termoidraulica susin i migliori impianti di riscaldamento e condizionamento se compri la caldaia ti regalo il condizionatore